Torna il premio Giusti nel mondo organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. La seconda edizione in programma sabato 16 settembre alle ore 19 allo Yacht Club Marina di Stabbia nell'ambito del Galà dell'Avvocatura. Il Consiglio dell'Ordine quest'anno ha assegnato il premio al professore Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina di Pozzuoli. Insieme al suo team di ricercatori Ballabio ha individuato mutazioni genetiche alla base di molte malattie genetiche rare. Al fine di sostenere l'attività del professor Ballabio l'Ordine devolverà i fondi raccolti in occasione del premio all'Istituto TGEM, polo di eccellenza della ricerca italiana nel quale lavorano circa 220 ricercatori, ha annunciato Gennaro Torrese, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che ha presentato l'iniziativa presso l'azienda Cantina del Vesuvio di Tre Case. Quest'anno, come l'anno scorso, intanto lo scopo di questa manifestazione è quella di rinnovare l'impegno dell'Avvocatura nel sociale. Noi vogliamo dare il segnale alla società civile che l'Avvocato non rimane solo confinato nel Tribunale, ma evidentemente espleta la sua funzione sociale, riconosciuta anche dalla Costituzione, anche al di fuori. Quest'anno abbiamo voluto, anziché premiare una personalità del nostro mondo giuridico, uscire dall'ambito giudiziario e pensare anche a tutti quei grandi personaggi che fanno ricerca e ricerca importante per la nostra salute e abbiamo pensato di premiare il professore Andrea Ballabbio. La nostra famiglia è sempre stata sensibile verso le iniziative di beneficenza, ha detto Maurizio Russo, proprietario di Cantina del Vesuvio. Da parte nostra vogliamo che tutti capiscano che sul Vesuvio le aziende operano in piena legalità, nonostante le enormi difficoltà, e anche dare un segnale di forza a chi vuole fare del male al nostro territorio. Noi abbiamo sempre partecipato a queste iniziative di beneficenza attraverso Teleton. Ora è ancora più sensibile la cosa a seguito dell'ingendio che c'è stato sul Vesuvio, far capire, sposare questa iniziativa per far capire la legalità che c'è qui sul Vesuvio. Rosario Perrecchi e del gruppo musicale Soul Food animeranno la serata sempre all'insegna della solidarietà. Anche l'incasso della vendita dei CD durante l'evento sarà devoluto a Teleton.